Oggi vogliamo parlare di un appuntamento che interessa a tutti noi, cioè il rinnovo del Parlamento europeo. Tutti i paesi saranno interessati dal 6 al 9 giugno, in varie modalità e date, per le elezioni, per il rinnovo appunto del Parlamento. Tutto questo, in vista di questo, la Comedia ha inviato a tutti i cittadini, in particolare i cattolici, un invito, quello di prepararsi alle elezioni votando responsabilmente. Il vostro è un invito, da un lato, a sostenere il progetto europeo, dall'altro a promuovere valori cristiani in modo che ne siano parte rilevante di questo cammino. Sì, esattamente. È un invito che fanno i Vescovi della Commissione delle Conferenze Episcopali dell'Unione Europea. Hanno fatto questa dichiarazione, presa pubblica la settimana scorsa, con questo invito. Prima di tutto a votare, perché sappiamo che normalmente l'affluenza alle urne per le elezioni europee è più bassa di quella per le elezioni nazionali. Quindi un invito veramente prima di tutto a votare. Poi a votare con responsabilità, con coscienza, vedendo bene per chi votare, quindi non votare con leggerezza. Votare con responsabilità per i valori cristiani, che sono i valori anche fondazionali dell'Europa, e votare anche per il progetto europeo. Questo è un progetto in cui siamo implicati, un progetto che ci coinvolge e al quale dobbiamo contribuire. Quindi questo è il messaggio fondamentale dei Vescovi della Comesse ai cittadini dell'Europa, ai cattolici, ma a tutti i cittadini, di votare, votare con responsabilità, votare per il progetto europeo, votare d'accordo con i nostri valori, con i valori cristiani. Ecco, lei ha fatto riferimento al rischio dell'astensionismo e al valore importante del singolo voto, per cui va fatta con una cognizione di causa, la scelta. Voi avete ribadito appunto il sostegno al progetto europeo, cito testualmente quello che avete scritto, un'Europa unita nella diversità, forte, democratica, libera, pacifica, prospera e giusta, nella quale ci sentiamo responsabili. Ecco, il rischio di un voto anti-europeo è molto concreto però. Sì, è alto, poi evidentemente bisognerebbe chiarire che vuol dire anti-europeo, perché sull'Europa possiamo avere idee diverse, quell'Europa che vogliamo, l'Europa che risponde o non risponde ai nostri valori, quindi è vero che c'è un rischio che alcuni messaggi, e qui bisognerebbe anche vedere la possibilità che questi messaggi vengano da fuori, che cercano di influire sulle elezioni europee, ma è vero che c'è questo rischio che alcuni messaggi anti-europei o anti-europeo o che vedono l'Europa come una minaccia, una minaccia ad altri tipi di valori o ad altre proposte culturali, c'è questo rischio, c'è questo rischio e questi messaggi possono essere presenti e che possono scoraggiare il mondo. Quindi i Vescovi cosa dicono? Il progetto europeo è qualcosa di buono, qualcosa accompagnato dalla Chiesa dall'inizio, è qualcosa che è anche il futuro per noi, non c'è un marcia indietro e che quindi dobbiamo contribuire adesso, contribuire adesso perché è un progetto che costruiamo insieme. Padre Manuel, quale deve essere quindi il parametro di valutazione che i cittadini devono utilizzare e che possa spingerli a superare un'eventuale sfiducia verso questo progetto europeo, così come è anche proposto e raccontato oggi? Io credo che da una parte ci deve essere l'impegno delle istituzioni europee ad avvicinarsi ai cittadini, questo evidentemente. Questa proposta che si è fatta in questo mandato e di una conferenza sul futuro d'Europa aveva questo scopo di avvicinare i cittadini alle istituzioni, perché evidentemente dipende da nazionazione, ma c'è a volte sfiducia, c'è a volte lontaranza dalle istituzioni. Quindi una parte del lavoro lo devono fare alle istituzioni, anche comunicando bene. Altra parte dobbiamo farla noi come cittadini europei. Il progetto europeo è un progetto nostro, siamo noi che lo facciamo, quindi implicarci in esso. E come cristiani io credo che i valori cristiani sono anche valori fondazionali dell'Unione Europea, quindi quello che ci deve guidare nel voto sono i nostri valori fondamentali, la dignità della persona umana, la famiglia, la difesa della vita, che è molto a rischio in Europa, e la solidarietà, la difesa della nostra casa comune, la sussitarietà anche, quindi il rispetto per le diverse culture, i diversi paesi. Quindi sono i valori nostri che devono guidarci anche nel voto. Valori che devono guidarne nel voto anche i giovani. Voi fate un riferimento specifico a loro a votare, ma anche a impegnarsi attivamente in politica, proprio per cercare di dare quella concretezza al progetto europeo del quale abbiamo parlato in questa occasione. Ma come si convincono i giovani a impegnarsi, a innamorarsi del progetto europeo con questo tipo di caratteristiche e di valori a cui lei ha fatto riferimento? Sì, questo credo che sia anche una parte importante di questo messaggio dei Vescovi europei. E poi anche come se la nostra piattaforma dei giovani ha creato uno strumento proprio per incoraggiare i giovani al voto e dare degli orientamenti, che si chiama Toolkit, che è stato presentato anche questa settimana. Quindi i giovani sono fondamentali. Il progetto europeo è un progetto di presente e di futuro, e i giovani sono il nostro presente e il nostro futuro. I giovani normalmente affluiscono, vanno meno a votare. Quindi bisogna chiamarli a questo voto, che sentano questo progetto come loro e che si implichino. Questo è un po'. Io credo che ci sono dei modelli che possiamo dare ai giovani per andare a votare. Dei modelli di giovani impegnati, coinvolti nel progetto europeo, dei santi. Ricordiamo la figura di Schumann, che è stato dichiarato venerabile. Quindi è un po' cercare di convincere i giovani o renderli coscienti che questo progetto è un progetto loro. Si sentono responsabili, si sentono proprietari del futuro nostro.